Lo studio legale Lombardo è formato da un team di esperti e professionisti che assiste privati e imprese. Incontriamo Danilo Lombardo, founder e managing partner. Come nasce questo studio? Lo studio ormai nasce da quasi vent'anni, da un'idea che io ho maturato durante la mia pratica forense presso lo studio di un importante professore universitario, nel quale collaboravo con professionisti di altissimo livello e in quel momento durante la mia preparazione mi sono reso conto dell'importanza di avere ciascuno una competenza specifica. Così intorno a questa idea, intorno alla volontà di dare un servizio altamente specializzato, anche se nel nostro ambito non si può parlare ancora di specializzazioni, ho cercato nella mia carriera di replicare un tipo di studio che avesse queste caratteristiche, cioè che riunisse sotto la stessa etichetta più professionisti, ciascuno altamente competente e ciascuno con una competenza verticale in una determinata materia. Così oggi ci troviamo all'incirca in 10 e anche più avvocati, ognuno con una competenza specifica, chi competenza verticale in diritto bancario, chi competenza in diritto del lavoro, chi in successioni e chi in responsabilità medica. A proposito di materie, in questo momento quali sono quelle più richieste dal mercato? Questo sicuramente è un aspetto fondamentale. Noi ci siamo sempre occupati fin dalla nascita di diritto del lavoro perché, come è facile immaginare, il diritto del lavoro è la materia che subisce costanti cambiamenti con l'avvicendarsi dei diversi governi. Peraltro sono tematiche che riguardano il maggior numero di persone e che coinvolgono con posizioni diverse tanto il lavoratore quanto il datore di lavoro. Negli ultimi tempi stiamo registrando un notevole aumento della domanda del mercato verso le procedure concorsuali, dove per procedura concorsuale intendiamo anche la procedura di sovraindebitamento, cioè quella procedura che consente al consumatore, al piccolo imprenditore di poter esdebitarsi e liberarsi dai debiti. Chiaramente questo va di pari passo con la crisi che c'è stata, complice anche alla pandemia, che ha visto aumentare il numero di persone cariche di debiti e nell'impossibilità di gestire in maniera ordinaria una situazione che ormai è diventata straordinaria. A proposito di diritto del lavoro entriamo nel vivo di un tema di grande attualità, la sentenza della Corte Costituzionale che sembra aver confermato la validità della norma sull'obbligo vaccinale per il Covid-19 adottata durante la pandemia. Qual è stato l'indirizzo di scelta della consulta? L'indirizzo di scelta sembra senz'altro quello di confermare la legittimità dell'operato del Governo. Siamo ancora nel campo delle ipotesi perché comunque le motivazioni non sono state depositate e quindi ogni valutazione che possiamo fare in questo momento si può basare sul comunicato che ha fatto la Corte Costituzionale e sull'intervista rilasciata dal Presidente della Corte Costituzionale al Corriere della Sera. Da questi elementi possiamo sicuramente dedurre che la Corte Costituzionale ha ritenuto non sproporzionate e non irragionevoli le scelte del legislatore di introdurre l'obbligo vaccinale e sembrerebbe riferirsi tanto all'obbligo vaccinale introdotto subito nella fase iniziale per il personale sanitario quanto all'obbligo vaccinale poi successivamente esteso in generale anche agli over 50. Questa conclusione, usiamo sempre il condizionale perché in questo momento d'obbligo sembrerebbe pervenuta la Corte Costituzionale sulla base di un contemperamento di interessi, contemperamento di interessi per il quale sulla base delle attuali conoscenze scientifiche la Corte Costituzionale ha ritenuto preminente rispetto ad ogni altro interesse ugualmente e altrettanto costituzionalmente garantito l'interesse a tutelare la salute pubblica. Quindi in attesa che vengano pubblicate le motivazioni e quindi di conoscere nel dettaglio penso di poter inferire che la ragione principale per cui si è arrivata al rigetto di questi ricorsi sia stata proprio quella di un contemperamento di interessi tutti ugualmente costituzionalmente garantiti.